Salve a tutti, benvenuti a questo Linux Day Online 2021. Purtroppo non sono con voi online perché sono a farlo dal vivo con la stessa presentazione e quindi vi dovete esorbire la mia faccia in digitale, però sarò raggiungibile naturalmente in qualunque momento tramite i miei contatti per qualunque domanda sul tema, quindi non fatevi problemi. Grafana, la bellezza dei dati salverà il mondo. Ora, questa citazione è perché, non so quanti di voi hanno sperimentato in questo anno, anzi due oramai, di dati. I dati noi siamo bombardati, con il Covid noi oramai siamo stati anestetizzati tutti i giorni a se dire il numero degli infetti, dei guariti e dei morti, fino a un punto tale che non ci fa né più caldo né freddo. Questo probabilmente perché non ne possiamo più, ma anche perché di per sé non sappiamo come confrontare questo dato per dire se è di più o di meno rispetto al giorno prima. Se facciamo il confronto, ad esempio, con le azioni che noi sentiamo tutti i giorni a delle giornali, abbiamo una percentuale che ci aiuta a far capire rispetto al giorno prima e giorno dopo, anche se non sappiamo l'entità di per sé. Quindi diciamo che c'è già una differenza rispetto di valore, riusciamo a capirli molto di più. Grafana è uno strumento che ti permette di capire il dato aggregandolo con altri, senza dover programmare. Adesso lo vedremo un attimo nel dettaglio. Però prima di parlare del strumento, mi presento. Sono Daniele Scasciafratte, ho una mia web agency a Roma, dove ci occupiamo di sviluppo di siti web con WordPress, ma anche con altre tecnologie, e contribuiamo moltissimo al mondo open source, tant'è che sono parte del direttivo di Italia Linux Society, ho fondato il Lug di Rieti, che adesso è la sezione locale Ilz Rieti, sono un core contributor di WordPress oramai da 5 anni, se non mi ricordo male, sono tre cofondatore del Meetup di Roma e coorganizzatore di quello di Terni, e faccio parte della comunità di Mozilla Italia, oramai da molti anni, e naturalmente sono un drogato di open source, e questo è un po' un dato di fatto anche dallo sfondo del mio ufficio, che potete vedere alle mie spalle. Comunque, voglio fare subito un ragionamento che il dato è bello di per sé, non è il grafico che lo fa bello. In questo caso, infatti, c'è un grafico bruttissimo, che ho fatto io naturalmente, anni fa, che deve aiutare a trasmettere il messaggio. Cioè, noi già, leggendola, anche se scritto in inglese, capiamo che qui c'è una curva in salita, che con due assi, ovvero abbiamo il lavoro, cioè le attività, e i risultati. In questo caso si tratta, praticamente, della conquista da parte del mondo open source, ovvero qualcuno legge questo grafico, qualcuno utilizza il mio progetto, corregge un bug, aggiunge una funzionalità, una comunità cresce intorno al progetto, lo sviluppo del progetto cresce grazie alla comunità, e di conseguenza c'è la conquista del mondo, come ha fatto Grafana o tanti altri progetti. Quindi, questo è per dire che, anche se il grafico è brutto, il dato riesce a renderlo molto più bello di quello che è. E questo qui è proprio papale, papale. Quindi, voglio parlarvi di questa campagna, che noi, come EELTS, abbiamo sottoscritto, che è datibennecomune.it, che qualche giorno fa ha vinto anche un premio per via di questa campagna in cui hanno aderito, o quasi, o non mi ricordo di preciso, più di 200 associazioni in Italia, quindi non solo del mondo open source, ma anche dedicata a temi specifici o locali, che si occupa di segnalare e raccogliere tutte le informazioni possibili riguardo alla liberalizzazione dei dati da parte dello Stato, principalmente, perché i dati parlano. E come fanno a parlare questi dati? Cioè, i dati sono fondamentali. Dati a chi è il tema di questo Linux Day. Oh, io voglio parlarvi subito con una cosa che mi ha toccato in prima persona. Noi, questo aprile, abbiamo fatto un sondaggio per tutti gli associati dell'associazione Italia Linux OSD. E questo sondaggio ci ha tirato fuori dei dati in un documento, in un foglio di calcolo, che è stato convertito tramite un programmino che ho fatto io, che è tutto open source, scritto in Python, che ha permesso di generare questi grafici direttamente dai dati. Noi, in questo modo, già possiamo avere un'idea, in questo caso, della popolazione dell'associazione, che ha partecipato naturalmente al sondaggio. Questo ci aiuta un po' a già riflettere come un dato stupido, che può essere l'età, ci fa capire come si sviluppa l'associazione e anche cosa pianificare dopo. Infatti, queste informazioni ci hanno permesso di valutare e di intraprendere delle azioni in merito per, ad esempio, portare più giovani, o coetanei miei, a seconda dei punti di vista. Quindi, questo è un esempio di come un dato, di per sé, con un minimo di valutazione su cosa ci si può tirare fuori, permette di renderlo più comprensibile agli altri. La verità è che questo sondaggio è stato tirato fuori poi in formato PDF, viene un documento di 24 pagine pieno di grafici. Cioè, non ti do il dato, ti do il grafico che, in base a questi dati come vengono interconnessi, riusciamo a capire meglio, ad esempio, gli interessi degli associati, o cosa gli piace fare, cosa fanno nella vita, e così via. Solo tramite un sondaggio, in questo caso. Inoltre, questo è quello che vuole l'occhio, perché quel grafico può essere un po' brutto. Cioè, è già un po' meglio rispetto a quello di prima, però questo è già un po' meglio. Cioè, diciamo che siamo arrivati proprio alla forma finale di un grafico. Questo che vedete qui è grafana, in azione. Questa è una cosiddetta dashboard. Una dashboard è questa schermata di informazioni che poi sta a noi definire. Fatto sta che avere già questo grafico e non sapere di per sé cosa serve questo grafico, già leggerlo, anche se non siamo, ad esempio, dei tecnici. In questo caso, noi possiamo vedere che qui ci sono 170 login in corso, oppure 80 call chiamate di supporto. Abbiamo le richieste del server, vediamo che ci sono dei pic di traffico. In quel modo possiamo capire quando, ad esempio, immagino questo server sia più sotto stress. e quindi quando si incassa di più. Questi sono degli esempi di come questi dati, in questo modo estrapolati, forniscano informazioni. E le informazioni sono il petrolio di questo nuovo millennio, come oramai sappiamo bene. Ora, io vi voglio fare degli esempi di dashboard pubbliche che voi potrete adesso, mentre state lì a casa, guardare, oppure aprire poi la presentazione lo conferisce il talk. Io adesso ve le farò vedere velocemente, che l'ho già aperte. Però prima di cominciare a... No, cominciamo subito, anzi, va. Allora, questa che vedete qui è una dashboard della prima dell'elenco che mostra l'andamento della curva epidemiologica per il Lazio tramite questo portale di qualcuno che si mette ad aggregare dati del Covid che ha messo sotto analisi da parte di Grafano e fa questi grafici. Io ho impostato, qui non si vede a causa webcam, la regione Lazio. Questi sono i dati della regione Lazio nell'arco di tempo che vediamo impostato qui, ovvero da febbraio a ottobre. Cioè, da febbraio dell'anno scorso a ottobre. Vediamo come si sviluppa. Questa è una dashboard pubblica. C'è questa istanza perché Grafano è un software web messo su un server che è stata poi configurata in questo modo. E noi possiamo intervenire e vedere maggiori informazioni in tempo reale. Possiamo quindi cambiare filtri e sbalordirci tutte queste informazioni in questo caso del Covid che ci vengono fornite. Perché i dati sono democratici. Nel senso, nessuno può dire che non è vero. Cioè, è un dato testuale fatto, vero, non si può dire che non sia così. Cioè, i dati parlano chiaro. Forse democratico non era il termine migliore. Comunque, questo è un altro un'altra dashboard di Wikimedia Foundation internazionale che mostra il traffico in tempo reale dei loro datacenter. E vediamo che loro hanno nelle ultime tre ore 7.5 petabyte utilizzati di traffico in questa macchina. Qui 500 giga a seconda della macchina. E questa, naturalmente, sono tutte dashboard pubbliche che l'ho trovata cercando su internet. Questa è ancora più affascinante perché è del CERN. Io ho aperto il primo perché ovviamente non so di cosa si tratta qui. ce ne sono diverse su questa distanza che sono aperte e sono fatte apposta per essere pubbliche. Non è che loggerate, eh? Preciso. E vediamo delle informazioni sulla latenza, sulla trasmissione e qualcos'altro. Forse è large ladron collider? I don't know. Però, diciamo che è affascinante. Non ci capiamo niente però i grafici fanno impressione. Questa invece è una dashboard di Mozilla che non funziona da un po' perché non la curano. però, ecco, fornisce delle informazioni sullo stato dei contributi sul progetto Common Voice di Mozilla. Quindi noi possiamo vedere qui i contributi che ho messo le ultime 24 ore per lingua e vediamo altre informazioni. Come vedete è un po' incompleto perché non è più di tanto seguita questa dashboard però è un altro esempio perché qui loro interrogano non dei dati di un server interni o dei dati che sono presi da DeFile ma interrogano un software che gli risponde queste informazioni. Queste sono di Grafana queste sono state fatte tutte con Grafana però altri esempi di dashboard perché non esiste solo Grafana Grafana è più famoso perché è più utilizzato ed è più semplice prima di tutti c'era Kibana questa è Kibana della The Document Foundation che mostra i contributor in azione in base ovviamente al periodo qui è stato impostato gli ultimi due anni loro analizzano varie fonti qui infatti vediamo i commit su Git le modifiche i ticket su Bugzilla quanti sono le modifiche sul wiki di Document Foundation le traduzioni perché Weblet è lo strumento web per le traduzioni e così via noi qui possiamo intervenire con i filtri e cambiare tutto quello che vogliamo per avere più informazioni possibili questo è Kibana che è molto più complesso perché permette diciamo che Grafana è molto utilizzato in ambito sistemistico perché è molto più diretto cioè la maggior parte delle volte tu non interagisci con l'interfaccia su Kibana devi interagire per forza per avere le informazioni che vuoi naturalmente puoi configurare Kibana come anche Grafana che te le dia già predefinite così certo è che questa visualizzazione è più avanzata ma naturalmente con Grafana ci possono fare le stesse cose qui vediamo invece un portale del governo italiano che riguarda lo stato di avanzamento della trasformazione digitale e qui non è una classica dashboard come siamo abituati a vedere adesso qui noi vediamo delle informazioni che sono estrapolate probabilmente da fonti loro interne e che stampano quindi qui non abbiamo dei grafici qui noi abbiamo dei dati questi dati sono sparati brutalmente in questa pagina ma ci forniscono ugualmente delle informazioni perché accanto ad ogni dato noi abbiamo una informazione su cosa sia quel dato precisamente qui ad esempio abbiamo le speed derogato le milioni di fatture gestite della fatturazione elettronica e così via questo quindi è interessante per sapere anche un po' com'è l'andamento su questo proprio avanzamento digitale quindi anche se noi non siamo tecnici su cosa sia per esempio il responsabile per la transizione digitale sappiamo che ce ne sono 7800 tutta Italia e confrontando ad esempio con i comuni che fanno parte dell'ampiero ovvero l'anagrafe nazionale della popolazione residente che ha lo scopo di unire tutte le anagrafiche che diciamo che è uno dei problemi più grossi che ci sia in ambito italiano nelle pubbliche amministrazioni ce ne sono 7740 quindi potremmo dire che ci sono responsabili quasi per ogni comune anche se non sappiamo se sono responsabili del comune ad esempio poi vi voglio condividere una dashboard che è stata pubblicata ieri nel mio tempo per quando vedrete il video sarà già passato una settimana che riguarda i numeri della certificazione verde ovvero il green pass rilasciato in Italia questo è sempre del governo italiano e qui abbiamo il numero vediamo che sono stati realizzati più green pass rispetto alla popolazione vera dell'Italia perché ce ne sono quelli della prima e seconda dose ad esempio e ieri ne sono stati rilasciati quasi un milione di green pass quindi noi qui vediamo un grafico vediamo poi altre informazioni come vengono scaricate ad esempio l'app Immuni ha avuto un picco ieri guardate rispetto al giorno prima questo è un picco negli ultimi 30 giorni l'app I oppure quindi ci sta molta gente che preferisce farlo dall'app ma anche da speed ieri c'è stata proprio ripennata ovunque anche parvace quindi possiamo dire c'è stata ripennata ovunque ieri di accessi e questo è un esempio e i dati loro li distribuiscono poi voglio farvi un'altra chicca questa chicca io non la conoscevo ma è stata girata è praticamente le statistiche dei siti web della pubblica amministrazione aggregati e vediamo che ci forniscono informazioni completamente diverse rispetto a quelle che abbiamo visto adesso ovvero i siti web di cui i dati sono aggregati cioè quasi 700 siti e le informazioni sulla durata media degli utenti da come ci accedono noi vediamo che c'è una distribuzione equa tra desktop e mobile il sistema operativo principale è Windows e Android i Mac sono molto pochi e i Linux sono malapena 350.000 le visite da vari browser vediamo che Chrome comanda però almeno Internet Explorer ha una percentuale molto bassa e queste sono statistiche completamente disponibili e queste sono delle dashboard che noi vediamo pubblicamente perché queste dashboard sono state rese disponibili proprio per aprire questi dati perché i dati hanno un valore finché non li vediamo non ce ne rendiamo conto quindi questi link ci sono nella presentazione potete approfondirli con calma oppure cercarli come ho fatto io su Internet ora però voglio parlarvi di Grafana Grafana è un applicativo web per la visualizzazione analisi interattiva dei dati come abbiamo potuto vedere cambio il periodo dell'automatico si aggiorna poi è un software open source con un'azienda che si occupa di questo sviluppo di questo prodotto e di altri abbinati più complessi e anche di servizi però è un'azienda che spesso sviluppa questi software internamente li vende ai propri clienti diciamola così e poi li rilascia completamente open source perché è proprio nella loro filosofia tant'è che qualche settimana fa hanno fatto una raccolta di fondi come donazioni e hanno fatto qualche milione di dollari in donazioni perché grandi aziende contribuiscono finanziariamente a questa azienda a questo progetto perché lo utilizzano internamente perché potete immaginare come vedremo poi in un utilizzo lavorativo quanto può essere utile è uno strumento scritto in Go ovvero è compilato quindi non è interpretato e Go è multi thread multi processo questo comporta quindi anche delle performance migliori specialmente quando devi elaborare tutti questi dati potete immaginare typescript per la parte javascript e naturalmente è multipiattaforma però se lo dovete installare su windows c'è qualche problema naturalmente e i requisiti minimi sono affascinanti il fatto che si è scritto in Go gli permetti di avere come requisito minimo 256 MB di RAM e una CPU e perché adesso ci arriviamo l'altra caratteristica interessante è che si può stendere tramite plugin come siamo abituati su firefox o su wordpress utilizzando il suo gestore pacchetti cioè non vogliamo che ne so una specie di grafico particolare lo possiamo installare se non è presente nel set di quelli già disponibili vogliamo un'integrazione eccetera c'è il pacchetto che installerà sulla macchina e si fa la linea di comando questo queste funzionalità aggiuntive ora la peculiarità di Grafana che lui elabora soltanto i dati e poi li fa mostrare al browser quindi la parte intensiva di fare i grafici la fa il browser stessa lui elabora soltanto i dati che chiede a varie fonti queste fonti possono essere database o altre e Grafana ne supporta 113 diverse di base che però a loro volta si interfacciano con altre fonti questo lo rende potenzialmente gigantesco e queste dashboard che noi abbiamo visto non si predispongono programmando ma si fanno da interfaccia cioè con un trascine clicca e poi ovviamente bisognerà configurare queste query in base alla fonte per mostrarle e un'altra peculiarità che lo rende utile in ambito lavorativo è la possibilità di creare gruppi e utenti cioè poter dire questo utente accede a questa dashboard e non a questa può interrogare oppure no vede questa parte qui bla 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 quindi potete darlo ad altri oppure renderla pubblica come quelle che abbiamo visto e queste dashboard esistono già pronte la maggior parte delle volte quando voi volete ad esempio mostrare come vedremo dei dati da un software troverete la dashboard già pronta con il grafico perché l'ha fatta qualcun altro voi dovete risultato preoccuparvi di installare la fonte o far comunicare la fonte di dati con Grafana in modo tale che poi il grafico venga mostrato e queste dashboard non sono altro che dei file di configurazione JSON che voi potete generare dall'interfaccia stessa una volta che avete fatto e salvarli o condividerli sulle dashboard come ho fatto anche io per alcune che ho fatto ora io vi voglio far vedere qualche esempio reale in utilizzo lavorativo perché noi nella nostra agenzia lo utilizziamo anche come servizio per i clienti cioè noi mettiamo per loro un'istanza Grafana che gli espone delle informazioni sulle loro piattaforme così anche loro possono tenere traccia ora come funziona prima di tutto abbiamo Grafana che è l'ultimo pezzo del puzzle prima c'è tutto il resto quello che serve quindi a Grafana è la fonte di dati in questo grafico noi vediamo Prometheus che è quello che vedremo nel resto della presentazione perché è quello che utilizzo io e come mi sono trovato meglio Prometheus è una database di dati che funziona in un certo modo ovvero cosa fa? beh delle informazioni vengono inviate a Prometheus e Prometheus poi le riespone aggregandole facendoci le query come si vuole ovviamente questo è un altro software web e Grafana non fa altro che interrogare Prometheus quindi noi possiamo fare che Prometheus che è una delle fonti di dati dette prima può interfacciarsi con altre fonti ad esempio Nginx che è un server web oppure MySQL che è un altro database oppure con un programma scritto da zero in questo caso nojs potrebbe essere in python o altre cose che adesso vedremo con dei casi reali quindi questo è il bello di Grafana perché il lavoro non è pesante per lui ma il bello del lavoro lo fa Prometheus o le altre fonti che possono essere anche su un altro server o su un altro computer ora queste fonti di dati io ve l'ho detto che sono 113 ma vediamo qualche esempio qui l'ho divise un po' per tipologia ci ho provato ora Prometheus è un database di tipo temporale come anche InfluxDB soltanto che Prometheus è quello che piace a me perché è più semplice e consuma molto poco poi ci sono i classici database SQL e NoSQL come MySQL o MongoDB Redis su cui può interfacciarsi o anche come fonti dati che sono dei servizi in questo caso abbiamo GitHub o GitLab l'abbiamo visto su Kibana possiamo vedere i ticket oppure interfacciarlo con altri servizi stanze proprie come ad esempio Discorso vogliamo avere le informazioni del forum possiamo oppure interfacciarlo con altri Google Calendar per vedere quante riunioni sono state messe questo mese oppure interfacciarlo con dei software tipo di marketing come Salesforce e l'Axis Search Engine è un sistema per fare le ricerche è un indicizzatore di dati potremmo dire oppure più classici un file JSON o più file JSON e anche dei altri database che sono SQLite è particolare perché è un database che è un file molti software lo utilizzano per salvare informazioni ora la peculiarità di queste fonti di dati è che devono essere di tipo temporale siccome mostro un grafico io devo salvare questi dati seguendo una certa struttura in modo tale che poi il software automatico ovvero Grafana possa farci una curva in questi casi è utile avere Prometheus di mezzo perché noi possiamo dire a Prometheus di leggere questi dati e ci penserà lui a poi fare le marche temporali o in plus quello che siano quindi stanno in base alla tecnologia strutturare il dato o fornirlo nel modo che funzioni su Grafana un'altra peculiarità che è molto utile vi posso assicurare è il fatto delle notifiche cioè io voglio sapere che quando il grafico raggiunge una certa cifra mi arriva una notifica in modo tale che io non devo stare tutto il tempo con la dashboard aperta beh possiamo farlo con delle notifiche tramite Discord Telegram via mail Teams Slack addirittura con i webbook perché Grafana le supporta nativamente cioè noi possiamo configurarlo dall'interfaccia web dove deve mandare le notifiche io preferisco email in questo caso ora cosa fa Prometheus e Grafana e come funzionano insieme ora Prometheus praticamente funziona così viene configurato per dirgli di scansionare una pagina ogni tot tempo sta a noi definirlo in questo modo li crea la marca temporale questa pagina non è una pagina web HTML normale e quindi lui con questo scansiona e immagazzina questi dati che poi utilizzando questo exporter Prometheus legge cioè io avrò questo che abbiamo visto prima un exporter che prende dei dati dal log di un programma e me li formate in modo tale che Prometheus possa interpretarli e caricarli nel suo database questo ovviamente si fa una volta sola cioè questa configurazione una volta che l'hai fatta il software in funzione sempre è a posto cioè noi ci troveremo a questo punto ad avere vari exporter inattivi eseguiti poi ci troveremo Prometheus sopra che legge questi dati e Grafana a sua volta che parla con Prometheus quindi Prometheus si configura globalmente per dirgli quanto tempo deve conservare i dati che ne so due giorni in totale o per questo qui stanno a definirlo in questo modo ci permette anche di avere un sistema leggero e farlo girare su Raspberry se vogliamo poi lo step successivo è dire a Grafana di fare di creare questa dashboard che deve poi chiamare le varie informazioni che noi vogliamo come abbiamo visto per la dashboard può essere configurata per mandare le notifiche su dati che vogliamo noi e poi tutte queste due stanze vanno messe in un certo modo solitamente Prometheus e Grafana si mettono sulla stessa macchina o su macchine diverse ma dentro una sottorete ovvero la macchina di Grafana accede alla rete di Prometheus ma tu non puoi accedere alla rete dove sono le informazioni in questo modo è tutto più blindato avendo poi Prometheus con i suoi exporter non si accede direttamente al dato grezzo ma un dato elaborato quindi permette una certa diciamo sicurezza però dipende come uno si vuole configurare tutta l'architettura io l'ho messa tutte su un unico server tutti i dati e tutto il resto questo è un esempio di configurazione di Prometheus vediamo innanzitutto che definiamo il nome del job cosiddetto su cosa deve fare la richiesta ogni quanto deve leggere 5 minuti qual è la url e poi vari parametri da passare alla url ora questo è per interparciarsi con un exporter che ho fatto io per wordpress praticamente noi in questo caso abbiamo configurato Prometheus per leggere informazioni da un sito wordpress tramite questo plugin per wordpress tra l'altro quindi questo dominio è pubblico su internet diciamo però questa pagina ci può accedere privatamente soltanto Prometheus tramite la chiave Prometheus perché è predisposto così l'exporter l'exporter è su github quindi è tutto pubblico open source anzi questo è un esempio di cosa espone l'exporter in questo caso è un copia e colla proprio di quello di wordpress vediamo che ci sono delle informazioni sul dato potremmo perché programmatore sono dei commenti potremmo dire ma servono perché poi vengono mostrati dentro Prometheus poi vediamo che il dato wp users total per l'host quindi noi stiamo già facendo un filtro sono 117 poi vediamo il numero di post per quel dominio pubblicato in quel momento preciso perché poi Prometheus lo salverà come dato di quei 5 minuti in cui ha fatto la scansione voi immaginatevi quindi un listone di tutti questi comandi ora questo è l'esempio di quei dati mostrati sulla dashboard vediamo che in questo dashboard è stato impostato nelle ultime 24 ore e questi sono i dati quindi abbiamo un grafico e poi abbiamo dei dati fissi che non c'è bisogno di vedere il grafico che ci dimostrano il dato in tempo diciamo l'ultimo dato ovvero in questo caso il numero di utenti registrati un altro esempio di grafana che utilizziamo noi è PageSpeed PageSpeed è un servizio di Google per sapere la qualità e le performance e la situazione di una pagina web ora questo è PageSpeed eseguito su Google mostrato con i dati tramite grafana perché altrimenti bisognerebbe utilizzare il servizio web invece io ce l'ho dentro il grafana e quindi posso anche postarmi le notifiche ad esempio e questo sistema questo exporter è scritto anche questo è in Go va a compilare e tutto il resto si configura e in automatico si installa la dashboard già pronta e noi possiamo avere un filtro per sito e anche per tipologia di schermo mobile desktop in questo caso parliamo di PageSpeed questo è un altro esempio che utilizziamo anche noi ovvero di sapere qual è lo stato dei certificati SSL per i nostri siti questo fa delle query questo exporter a un servizio che a sua volta verifichera lo stato dei certificati e quindi di conseguenza ne possiamo mettere degli avvisi e così via e vediamo infatti i vari siti quanto tempo c'è messo eccetera questo è stato l'ultimo che ho richiesto molto per il lavoro è praticamente un'analisi degli errori PHP mostrata su Grafana praticamente questo è un fork di un altro exporter in Go che aveva dei problemi che io ho corretti spero che praticamente analizza i log di PHP e ci mostra in questo grafico gli errori che ci sono ovviamente in quella fascia temporale quindi ce li divide in fatal notice warning in questo modo io posso sapere subito se il sito è crashato se stanno crescendo troppo gli errori se c'è bisogno di intervenire e così via questo mi ha permesso poi nel tempo di arrivare al punto tale che i siti che sta tracciando con questo strumento sono a livello zero di errori naturalmente questo è per la produzione perché ci serve da monitorarle perché non sappiamo mai cosa può succedere questo ovviamente noi lo facciamo con uniche stanze tutti questi tre dashboard che avete visto sono tutti sulla stessa stanza ma interroga fonti di adi diverse ma la stessa stanza prometheus ora la domanda è come posso provarlo beh Grafana come abbiamo detto è un'azienda che ha un piano cloud gratuito che offre 50 giga di dati che può manipolare quindi voi potete crearvi un account su questo portale e provarlo gratuitamente quindi potete metterci tutti i dati che volete non ho approfondito come funziona onestamente quale fonti di dati supporto e così via ma solo per provarlo eccetera sicuramente è un bel giocattolo certo è che io so che tanti lo utilizzano anche in ambito lavorativo perché funziona con un piano da 50 giga e voglia di dati che ci puoi mettere se poi fai come me che i dati vengono cancellati nel tempo di una settimana ad esempio il problema non si pone quindi io sono arrivato al punto se eravamo dal vivo avremmo parlato da questo punto di vista con online non possiamo farlo quindi la mia domanda è tu per cosa su che seresti Grafana per mostrare i dati questo che vi ho presentato è la mia esperienza perché io l'ho utilizzato per lavoro io ho l'istanza per Grafana per lavoro ero partito semplicemente con quello di PageSpeed poi mi sono detto sarebbe figo avere anche informazioni di Wordpress e quindi ho fatto Wordpress poi mi sono visto ho avuto dei problemi con i certificati allora ho messo l'exporter per i certificati e così via cioè è stato un susseguirsi di necessità personale in agenzia che poi abbiamo aperto anche ai nostri clienti sul nostro server ovviamente c'è il login e password alternativo di Grafana noi qui abbiamo potuto solamente installarlo configurare gli exporter verificare che funzionassero e poi lavorare tutto quanto solamente da interfaccia di Grafana una richiesta conoscenza di programmazione se non quando si fanno le dashboard da zero e si vuole dire questo grafico deve mostrare il dato che abbiamo visto prima ad esempio vp user total e quindi bisogna configurare le query e queste query dipendono a seconda della fonte di dati e Grafana si adatterà per mostrare il sistema c'è tutta l'interfaccia apposita con cui si può provare e così via e Grafana ha un sito spettacolare dove potete trovare centinaia di dashboard già pronte per funzionare con degli exporter ne offre già di base e prometto se tutti gli altri che abbiamo visto ce ne hanno già quindi sta a voi valutare in base alle vostre necessità quali preferite e detto questo io vi saluto e ci vediamo spero alla prossima volta dal vivo quindi buon Linux Day a tutti ciao